Benvenuti e benvenute. Anche se il mio linguaggio non sempre è conforme alle nuove regole grammaticali del linguaggio inclusivo, nessuno si sente escluso nella nostra sala telematica, né per genere, né per etnia, né per il colore della propria pelle, né per le proprie convenzioni religiose o politiche. Accettiamo di discutere il nostro pensiero anche con i nostri avversari politici e sociali, purché su un terreno di sana lealtà. Apriamo con questa sera un ciclo di incontri che abbiamo chiamato l'alba del soldo all'avvenire, perché riteniamo che le radici della società che auspichiamo, comunista e libertaria, stiano nelle azioni e nei pensieri di quelli uomini che nella seconda metà dell'Ottocento hanno gettato le basi della nostra identità. Il primo incontro è dedicato alla prima internazionale in Italia, puntando l'attenzione e facendo risaltare, anche e ovviamente non solo, l'azione degli internazionalisti pugliesi. Il secondo incontro, previsto per il 18 febbraio, è dedicato alla figura di Emilia Covelli, che ultimamente, grazie anche ai lavori giovanili di Mario Spagnoletti, è stato riscoperto dai giovani della società natale da Trani. Il terzo incontro, nel mese di marzo, lo dedicheremo ad una trasformazione epocale, come questi uomini che sulla scia della Comune di Parigi puntano inizialmente alla insurrezione delle masse diseredate, man mano trasformano il loro pensiero e passano dalla teoria dell'insurrezione alla teoria dell'organizzazione sociale. Associazioni di mutuo soccorso, leghe, camera del lavoro, abbandonando quasi del tutto la via insurrezionale e ipotizzando una nuova organizzazione sociale, partendo proprio dalle organizzazioni di resistenza dei lavoratori. La linea del nostro orizzonte è stata tracciata da queste generazioni di militanti, vissute nella seconda metà dell'Ottocento. Spetta a noi oggi il compito di incamminarci verso l'orizzonte indicato per raggiungerlo. Chi è Mario Spagnoletti? Che intanto ringrazio per aver accettato il nostro invito. Mario Spagnoletti è un militante comunista, studioso del Risorgimento e del Movimento Operaio e Socialista. Già docente di storia, di storia dei partiti e movimenti politici presso l'Università di Bai. Mario, se sei pronto, io ti lascerei la parola. Sono pronto, Totò. Allora io intanto saluto tutte le partecipanti e i partecipanti e ringrazio Totò della occasione che mi ha dato di ritornare a riflettere su una serie di spezzoni della storia del Movimento Operaio Italiano nell'ambito ovviamente del più ampio movimento operaio internazionale che avevano costituito punti di riferimento, come ha detto bene Totò, di miei studi giovanili. perché io ritengo sia particolarmente importante e significativa questa occasione? Perché mai, come negli ultimi 40 anni direi, c'è stata una disattenzione, sarei per dire quasi totale, nei confronti dell'internazionalismo e delle radici di questa idea che in qualche modo era nata proprio nell'ambito della seconda metà dell'Ottocento come punto più alto di riflessione e di unificazione delle prime battaglie, delle prime lotte del Movimento Operaio. Non vi è alcun dubbio che i processi di mondializzazione dell'economia, i processi che sono sotto gli occhi nostri, che hanno raggiunto piena e forte, come dire, maturità per un verso e per un altro verso, una sorta di assoluta predominanza negli ultimi 20 anni, con una apparente vittoria totale dell'ordo liberismo, hanno in qualche modo sottratto all'attenzione non soltanto degli studiosi, ma direi anche all'attenzione della opinione pubblica più in generale, la storia dell'internazionalismo e soprattutto i principi dell'internazionalismo. quasi che questa apparente vittoria del capitalismo abbia in qualche modo fatto venire meno anche le ragioni ideali che sottostavano alla costruzione di quei processi. Ritengo invece che sia in qualche modo importante tornare a riflettere su quelle origini, su quelle idee, su quella visione di una battaglia che non può essere una battaglia scandita a livello nazionale, ma deve essere una battaglia internazionale per l'affermazione dei diritti di giustizia e di libertà che sono alla base del pensiero socialista. Quando dico socialista non faccio riferimento a questa o a quella dottrina, del pensiero socialista in generale e quindi a buon titolo anche del pensiero anarchico. Io credo che due elementi in qualche modo abbiano in questi ultimi due, tre decenni cooperato a far sì che vi fosse una sorta di damnazio memorie intorno a queste tematiche, a questi studi. Per un verso quella che ho detto, e cioè questa predominanza, per dire così, di una società all'interno della quale tutto pare in qualche misura scandito e organizzato sulla base di un predominio assoluto del capitale a livello mondiale e quindi dei processi di mondializzazione e globalizzazione. Dall'altro lato il fatto che assai spesso la storiografia ha finito in sostanza per accettare una sorta di modello e quindi per dedicarsi ad altro tipo di studi che hanno obbligato questo settore della ricerca. A questo si aggiunge un ulteriore elemento, e cioè il fatto che questi studi che avevano pur raggiunto una loro grande consistenza e maturità all'altezza degli anni 70 e degli anni 80 del XX secolo, in fondo hanno finito per arenarsi in una contrapposizione che è stata una contrapposizione di tipo ideologico. All'interno di questa contrapposizione il movimento anti-autoritario, il movimento libertario, il movimento anarchico ha subito a sua volta una ulteriore d'amnazio memoriae, se si eccettuano una serie di studi, poi li ricorderò rapidamente, che viceversa hanno portato avanti queste tematiche. Consentitevi di partire da una citazione. Ripubblicando nel 2014, quindi appena otto anni fa, il suo volume su Marx e la prima internazionale, Gian Mario Bravo, nella premessa a questa nuova edizione del 2014, così scrive Ai medesimi anni, cioè gli anni di costruzione della prima internazionale, 1864, 1870, 1871, risalirono i brevi testi di estrema pregnanza politica e fondatamente rinomati. L'indifferenza in materia politica Marx dell'autorità Engels, apparsi per la prima volta in Italia che segnarono il confine ideale e culturale che anteponeva la questione dell'organizzazione politica del mondo del lavoro, di classe ma aperta al dialogo con la democrazia repubblicana, contrapposta, e qui è il punto che mi interessa sottolineare, contrapposta alle confusioni e alle astruserie dell'anti-autoritarismo, dell'anticentralismo, del disordine chimerico e semplicistico degli estremisti e ingenui libertari. Perché ho voluto fare questa citazione, partire da questa citazione? Questo è, a mio modo, Totò ha detto che io sono un militante comunista, Totò ha detto la verità, ma io sono anche un nostorico, o mi sforzo di essere un nostorico. Perché questo tipo di cliché interpretativo ha finito per oscurare la possibilità e la capacità di analizzare in maniera seria, approfondita, storiograficamente corretta, tutte le componenti del movimento operario e socialista italiano delle origini. Partendo cioè da una premessa, che è una premessa ed è un giudizio di tipo negativo, anzi è un pre-giudizio, evidentemente l'analisi di tipo storico, l'analisi di tipo storiografico, ne risulta profondamente, non soltanto segnata, ma arretrata rispetto alle possibilità di individuare dei filoni, poi si possono condividere al 100, al 50, al 60, al 10%, ma comunque individuare dei filoni sui quali il giudizio deve essere un giudizio maturatamente storico e non un giudizio ideologico, o meglio, un pregiudizio. E siamo, quando scrive queste parole, Gian Mario Bravo, al 2014, appena otto anni fa. Questo significa che una lunga vulgata, una lunga tradizione, che risale sostanzialmente alle polemiche apertesi nel corso delle battaglie politiche e ideologiche nel seno della prima internazionale, ha finito per diventare la cartina di tornasole che ha condizionato la ricerca storica, le posizioni storiografiche, le analisi sulle origini del movimento operaio e socialista in Italia. Ora, se si possono capire le polemiche, anche roventi, nate proprio nel corso delle battaglie politiche per la prevenenza all'interno della prima internazionale o dell'associazione internazionale dei lavoratori, per intenderci, se si possono capire, capire non significa condividere, capire non significa giustificare, ma comprendere anch'esse da un punto di vista storico, le violente polemiche di Marx e di Engels contro l'alleanza, non si comprendono invece le posizioni degli storici che finiscono per essere sostanzialmente completamente appiattite sui risultati e sui presupposti di quella polemica. Potrei leggere un brano famosissimo, peraltro, scritto da Engels e pubblicato come risposta del Consiglio Generale dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori a, diciamo, le battaglie in seno alla prima internazionale e noi avremmo un perfetto cliché che viene sostanzialmente ripetuto di fatto nelle affermazioni di uno storico come Gian Mario Bravo che però non scrive, vadate bene, nei primi anni settanta dell'ottocento scrive viceversa nel 2014 e come dire questo tipo di polemica ha finito per aggiungersi a questa sorta di obnubilazione che sta come dire oscurando questi valori e questa presenza dell'internazionalismo in Italia nella seconda metà dell'ottocento in qualche modo deviando la attenzione non soltanto degli storici ma anche dell'opinione pubblica dei militanti di chiunque si accosti per dire così con un atteggiamento non preconcetto alla storia della prima internazionale in Italia. Scusatemi il lungo preambolo ma era indispensabile per far capire come e perché a mio giudizio vi è questa sorta vi è stata questa sorta di oscuramento soprattutto negli ultimi decenni. Certo poi vi sono i lavori di storici seri in primis Gian Piero Berti che ha pubblicato volumi fondamentali non mi riferisco alla storiografia degli ultimi due decenni certo ci sono i lavori i lavori di Piercarlo Masini ma per per restare diciamo una storiografia a noi più vicina ci sono i lavori di Berti di Carlo De Maria ci sono i lavori di Adriana Dadà di Giorgio Sacchetti che indubbiamente hanno offerto una serie di contributi validissimi proprio per andare a trovare le radici di un movimento che nasce anche in Italia all'altezza della seconda metà degli anni sessanta sul finire degli anni sessanta dell'ottocento e che nasce in una situazione per dir così di complessità dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico intanto io vorrei mettere in evidenza un aspetto l'idea che Marx sia stato Marx ed Engels siano stati gli unici protagonisti della nascita e della costruzione della prima internazionale dal 1864 sino alla data del suo trasferimento negli Stati Uniti è una idea che va in qualche modo ridimensionata l'associazione internazionale dei lavoratori a Londra nasce soprattutto ad opera di rappresentanti delle trade unions inglesi e di associazioni del movimento operaio francese in particolar modo di ispirazione prudoniana lo stesso Marx viene invitato a partecipare sin dall'inizio alla fase costitutiva della prima internazionale soltanto in quanto per lui garantiscono e chiedono la partecipazione due suoi grandi amici il tedesco Eccarius e lo svizzero Hermann Jung poi è chiaro Marx è personaggio di caratura culturale alta ed ha anche grandi capacità tattiche strategiche evidentemente riesce poi in qualche modo a imprimere alla costituenda associazione internazionale dei lavoratori un suo peculiare indirizzo correggendo per esempio quelli che erano stati i progetti di statuto che erano in qualche modo opera non di socialisti o proto-socialisti ma erano opera di un mazziniano come il maggiore Wolf quindi capacità manovriere capacità tattiche ma certamente non è il padre della prima internazione su una questione ovviamente bisogna prestare attenzione una questione che avrà poi una lunga faticosa gestazione e soprattutto che costituirà il punto di rottura di fatto tra le due anni della internazione e cioè i famosi considerando che aprono i preamboli degli statuti provvisori approvati a Londra nel 1864 c'è uno di questi considerando che è particolarmente significativo per un verso e che diventerà spinoso per un altro verso e cioè considerando che l'emancipazione economica delle classi lavoratrici è il grande fine a cui deve essere subordinato ogni movimento politico come mezzo vi prego di soffermare un attimo l'attenzione su questo come mezzo perché è proprio sulla interpretazione di questo considerando che di fatto si gioca una visione contrapposta della prima internazionale del suo ruolo soprattutto della sua metodologia prima ancora delle questioni relative all'autoritarismo interno alla centralizzazione dei poteri e questo uno dei punti dei nodi focali cioè l'emancipazione economica e il fine le forme di organizzazione politica cioè il movimento politico sono il mezzo cui da utilizzare per il raggiungimento di questo fine non sono essi stesso il fine intorno a questa questione se si accentua l'aspetto del mezzo rispetto a quello del fine capite bene che si può avere una visione che punta sulla costruzione dei movimenti politici come obiettivo della prima internazionale ovvero una visione che privilegia l'emancipazione e quindi tutte le forme di lotta che portano a quella emancipazione considerando la politica la dimensione dell'organizzazione politica solo come un mezzo rispetto ad uno scopo questi dibattiti che possono sembrare dei dibattiti puramente intellettualistici in realtà hanno attraversato in maniera forte corposa la storia delle organizzazioni anche e soprattutto la storia delle prime embrionali forme di organizzazione del movimento operaio e socialista in Italia con particolare riguardo al mezzogiorno ma certamente non solo pertinenti al mezzogiorno non vi è dubbio che nel mezzogiorno a Napoli in particolare si hanno in maniera precoce rispetto anche ad altre zone dell'Italia unita si hanno forme di articolazione di prime associazioni embrionali che in qualche modo dibattono intorno a questa questione e perché nel mezzogiorno perché il mezzogiorno in qualche modo aveva vissuto il forte dibattito subito dopo il processo della unificazione nazionale aveva vissuto il forte dibattito sulla sui limiti sulle strettoie sulle aporie della unificazione nazionale e perché esso rappresentava anche agli occhi di una confusa miscela di forze che andavano dal mazzinianesimo a formazioni radicali a formazioni che si richiamavano al garibagunismo sociale un punto di riferimento privilegiato si riteneva cioè che il mezzogiorno potesse essere un serbatoio di forze forze e processi di rottura se non proprio rivoluzionaria certamente di modificazione profonda degli assetti che aveva preso la costruzione dello stato unitario non è un caso che nel mezzogiorno e non in altre zone del paese vi era stata una forte presenza di movimenti antiunitari non era un caso cioè che il mezzogiorno fino al 1865 aveva visto e vissuto la stagione del grande brigantaggio e non è un caso che alcune teorizzazioni vedevano proprio nelle ragioni che avevano prodotto il grande brigantaggio l'elemento per una possibile insurrezione all'interno del mezzogiorno continentale non dovrò ricordare le posizioni che già nell'ambito della della sua azione all'interno del populismo russo Bakuni aveva avuto nei confronti dei movimenti del banditismo e del brigantaggio non devo ricordare qui che in un suo noto scritto pubblicato da Franco Venturi proprio nel volume sul populismo russo e intitolato posizione del problema politico 1869 proprio Bakuni ne aveva posto il problema di utilizzare questo serbatoio rivoluzionario perché nelle campagne c'era una tale disgregazione sociale che poteva costituire la miccia di uno sconvolgimento degli assetti di tipo economico sociale e statuale che avevano visto in Italia la prevalenza delle forze delle forze moderali ecco perché nel mezzogiorno nasce presto in anticipo starei per dire rispetto ad altre zone del paese un processo di transizione dalla democrazia di tipo risorgimentale verso forme più avanzate che tendono ad una visione di carattere socialista e all'interno di questo processo avviene quella che potremmo dire il deperimento della democrazia risorgimentale certo vi sarà un elemento e vi sarà un momento di particolare come dire scoppio delle contraddizioni e questo sarà la comune parigina e la posizione di Mazzini sulla comune ma è certo che anche prima della comune si andavano in qualche modo determinando all'interno della realtà del mezzogiorno e di Napoli in particolare quelle condizioni per una trasformazione delle formazioni di tipo risorgimentale in formazioni di tipo socialista d'altro canto questi elementi sono stati ben analizzati dalla storiografia non soltanto le opere di Franco della Peruta e prima ancora di lui di Aldo Romano ma persino i lavori di uno di uno storico certamente non non del movimento operaio né di uno storico di ascendenze di sinistra ma di uno storico onesto come Alfonso Scirocco in un volume intitolato democrazia e socialismo a Napoli ha evidenziato questi processi per un verso di disarticolazione della vecchia democrazia di tipo risorgimentale per un altro verso della nascita di queste prime embrionali forme di organizzazione socialista in tutto questo ovviamente c'è un elemento forte e l'elemento forte è la presenza proprio a partire dai primi momenti di costituzione della internazionale a Londra di Baconi in Italia prima a Firenze e poi per un bienio intero a Napoli e qui è sorto un problema che ovviamente è stato variamente interpretato dalla storia di Uriah c'è chi ha detto io semplifico molto l'analisi dovrebbe essere puntuale con i testi alla mano ma certamente non si può fare un'analisi con i testi alla mano in una conferenza semplifico ma in qualche modo riassumo quelle che sono come dire le risultanze della migliore storica su te c'è chi ha detto che sostanzialmente non è Baconi che è elemento di influenza su ciò che si modifica sui processi di modificazione della democrazia risorgimentale a Napoli e del Mezzogiorno ma è anzi esattamente il contrario e cioè sono questi elementi che influiscono sul pensiero Bacuni io credo che invece le cose stiano diversamente è effettivamente Bacuni che ha una funzione come posso dire di disarticolazione dei vecchi impianti anche di carattere ideologico è Bacuni che attraverso la sua azione il suo magisterio intellettuale riesce in qualche modo a disarticolare la presenza mazziniana a Napoli che pure era stata forte negli anni precedenti ricordatevi che a Napoli era stato fondato il popolo d'Italia come uno dei punti di riferimento dell'ideologia mazziniana non solo nel Mezzogiorno Bacuni quindi comincia a lavorare e attira dalla sua parte attraverso un processo che è un processo di riflessione ma badate bene secondo me è un processo anche di internazionalizzazione del pensiero cioè Bacuni ha una esperienza internazionale che consente di far fare un salto di qualità ad un movimento come il movimento sia pur mazziniano sia pur antimonartico nel Mezzogiorno che però non aveva riferimenti di tipo internazionale che in questo come dire l'azione di Bacuni è un'azione fondamentale attrae a sé una serie di mazziniani si possono fare alcuni nomi Fanelli Frifra Gambuzzi Caporusso Carmelo Palladino cioè tutta una serie di personaggi che fanno parte di una sorta di come posso dire di nebulosa che riesce a compiere una transizione da una vecchia visione che era la visione del compimento della nazionalità e della repubblica senza aggettivi però cioè due temi fondamentali del pensiero mazziniano garibaldiniano ad una visione diversa che non è più quella della repubblica San Frans cioè di una repubblica che non abbia al suo interno dei contenuti di carattere fortemente sociale e soprattutto che il compimento della nazionalità non ha alcun senso visto che il problema è quello della emancipazione delle classi lavoratrici e l'emancipazione delle classi lavoratrici non si raggiunge a livello nazionale ma si raggiunge con una lotta di tipo internazionale e soprattutto non si raggiunge con la mera costituzione di una repubblica perché la costituzione di una repubblica non garantisce quell'elemento che avevamo visto essere uno dei capisaldi dei considerando della prima internazionale cioè l'emancipazione economica delle classi lavoratrici questo è a mio modo di vedere il punto il punto forte di snodo nel processo di transizione dalla democrazia risorgimentale verso il socialismo e qui secondo me l'apporto di Bakunin mi dispiace per gli storici che viceversa hanno voluto vedere soltanto una dimensione di carattere interno di carattere nazionale qui l'apporto di Bakunin a mio modo di vedere è un apporto fondamentale dentro questa dimensione si comincia a costruire a Napoli una sezione dell'internazionale lo si fa in maniera abbastanza sarei per dire in anticipo anche rispetto ad altre zone del paese ma anche qui attenzione bisogna a mio modo di vedere avere la onestà intellettuale e storiografica di mettere in rilievo un aspetto e cioè che questi passaggi sono per un verso passaggi lenti però per altro verso sono passaggi assolutamente come devo dire trasparenti quando a Napoli si costituisce prima la associazione libertà e giustizia e poi questa associazione da vita un organo di stampa se noi andiamo a prendere in mano i numeri del giornale libertà e giustizia beh lì noi troviamo davvero la possibilità di leggere in filigrana questo processo di transizione perché i temi badate bene sono temi estremamente significativi non sono più per dir così temi che guardano all'esperienza della grande rivoluzione francese al problema della mera modificazione dei rapporti e degli assetti politici cominciano a venire fuori dei temi che riguardano la vita sociale e la vita economica in senso stretto vi sono articoli che riguardano il mondo contadino vi sono articoli che riguardano l'articolazione stessa della società meridionale dove in qualche modo comincia a venire all'evidenza la necessità di un'analisi che non può essere più un'analisi univocamente politica ma deve essere un'analisi economico-sociale quello è il punto di inizio intorno cioè a quella dimensione si costruisce un processo che vedrà la costituzione proprio della sezione napoletana dell'internazionale in cui peraltro un pugliese almeno per una fase avrà un ruolo predominante non mi riferisco a Cafiero che certamente è punto di riferimento ideale e ideologico mi riferisco a Stefano Caporusso Stefano Caporusso che sarà il presidente per quasi un biennio della federazione napoletana dell'internazionale e che in questa qualità parteciperà ad uno dei congressi dell'internazionale è originario di Modugno esattamente a qualche chilometro dal luogo in cui vi sto parlando da Bari Caporusso svolge una funzione importante e riesce a portare all'interno dell'organizzazione su posizioni che sono già posizioni virgolette economiche di tipo sindacale di organizzazione dal basso anche di una capacità di lotta e di resistenza attraverso la costituzione di una vera e propria cassa di resistenza siamo siamo sul finire degli anni sessanta dell'ottocento primissimi anni settanta riesce in qualche modo a creare una struttura al cui interno non vi sono vadate bene soltanto o tanto quelli che Marx anzi Engels perché il testo è engelsiano con un linguaggio sprezzante chiamava avvocati senza cause medici senza clienti giocatori di biliardo giornalisti di dubbia di dubbia capacità no all'interno di questa organizzazione c'erano gli elementi come devo dire più significativi di quella classe a metà tra artigiana e operaia napoletana dai dai pellettieri che costituivano uno dei punti di riferimento forti della organizzazione napoletana a tutta una serie di altre di altre professioni arti e mestieri di carattere squisitamente proletario e questo è un punto che secondo me deve essere fortemente sottolineato certo poi la comune di Parigi diventa davvero il momento in cui si contrappongono fortemente tutta una serie di sensibilità la comune di Parigi diventa il detonatore di un processo in cui alcuni pochi restano sostanzialmente aggrappati alla visione della democrazia risorgimentale e quindi restano mazziniani ma una parte cospicua di questa di questa di queste organizzazioni una parte cospicua di questi individui che hanno mal sopportato il carattere moderato presso alla cosiddetta unificazione nazionale passano in qualche modo dall'altra parte e aderiscono all'internazionale aderiscono però all'internazionale con una visione che è sostanzialmente una visione che risente fortemente delle caratteristiche ambientali e sociali del riferimento geografico ricordo in anni assai lontani Santarelli l'altro studioso del movimento operaio e socialista in Italia Santarelli fece una considerazione acutissima disse cioè possiamo guardarla in ogni modo ma non vi è dubbio che la organizzazione della internazionale della prima internazionale in Italia in particolar modo nel mezzogiorno è una organizzazione fortemente caratterizzata da elementi bacuniniani perché questi elementi bacuniniani meglio rispondevano alle condizioni sociali di riferimento di quei territori in cui si andava innervando la organizzazione internazionale dei lavoratori questo processo non è solo un processo che riguarda Napoli questo processo pian piano comincia in qualche modo a diffondersi anche nelle altre province medizionali anche in Pugna anche in Pugna attraverso come devo dire lo stesso processo di carattere culturale di carattere ideologico ma anche attraverso come devo dire l'azione che alcuni punti di riferimento del movimento a Napoli svolgono nelle province perché questi provengono dalle province alcuni di questi provengono non si spiegherebbe altrimenti la costituzione di una prima di una di una sezione poi addirittura di una federazione barlettana dell'internazionale è evidente che la presenza di Caffiero e il ruolo il magistero di Caffiero le sue capacità di direzione politica spingono verso la costituzione di questi di questi gruppi di queste organizzazioni di carattere di carattere politico ma allo stesso modo si possono individuare altre presenze nel barese ad esempio anche in terra di vari si costituiscono prime forme embrionali che aderiscono internazionali anche nel lontano salento che sembra ovviamente il territorio più come devo dire più lontano e per certi versi anche più legato a forme di una proprietà fondiaria aspissiante anche nel salento cominciano a costituirsi questi gruppi e nel foggiare e negli anni successivi vi saranno tutta una serie di interrelazioni tra questi gruppi l'elemento che io credo sia fondamentale è ovviamente questo non dappertutto il movimento riesce a radicarsi non dappertutto il movimento riesce a dare vita a forme organizzative che abbiano i caratteri della persistenza e però c'è un un polviscolo continuo il mescolamento continuo se guardiamo le carte d'archivio ad esempio se guardiamo le relazioni semestrali sullo spirito pubblico dei prefetti di Bari Foggia e Teradotranto noi possiamo in qualche modo avere degli elementi che ci fanno comprendere come questi gruppi esistono sono sorvegliati di essi vengono redatti delle proprie schede biografiche che poi finiranno al Ministero dell'Interno e quindi poi confluiranno molto più tardi nell'archivio centrale dello Stato e badate non c'è solo piccola borghesia intellettuale anche anche vi sono persino dei sacerdoti che secondo le carte di polizia aderiscono al movimento internazionalistico a queste sezioni dell'internazionale della prima internazionale ma vi sono anche tutta una serie di esponenti e rappresentanti di una come dire di una pulviscolare classe lavoratrice artigiana piccolissimi piccolissimi coltivatori diretti gente che lavora ad esempio alla costruzione della ferrovia che ancora non è ultimata lungo la dorsale adriatica sicché qualcuno disse che in sostanza le idee dell'internazionalismo e le idee del socialismo camminarono verso le puglie con i binari della ferrovia perché molti diciamo dei lavoratori ferroviari non non erano locali ma venivano dalle marche venivano dalle romagne e quindi in qualche modo portavano anche qui certe esperienze di organizzazione anche di tipo repubblicano che soprattutto nelle romagne aveva avuto delle punte di carattere di carattere socialmente avanzato non si spiegherebbe poi perché nel 74 vi furono gli arresti di Villaruffi dove sostanzialmente i repubblicani stavano valutando e decidendo se dare una mano ad una ipotizzata e sognata rivoluzione sociale cioè se partecipare a quella che Aldo Romano chiamò in un capitolo di uno dei suoi tre volumi sul movimento operaio italiano chiamò fervida vigilia di insurrezione questo per dire sostanzialmente come una analisi attenta ma soprattutto un'analisi onesta non possa in qualche modo accettare una impostazione storiografica di carattere ideologico e se lo dico io che anarchico come sapete non sono mai stato e che sono stato e sono anche se non esiste più un militante comunista evidentemente è perché questa esigenza di una ricerca seria approfondita su questi primi momenti di organizzazione e sul fatto che questi primi momenti di organizzazione ancorché non abbiano come dire sposato la posizione ufficiale di Marx di Engels e del movimento operaio e socialista tedesco ma abbiano viceversa privilegiato una visione tendente in qualche modo a una libera organizzazione dal basso a forme che se volete usare il linguaggio usato in quel tempo potremmo definire di tipo anti-autoritario a forme che in qualche modo erano estremamente sospettose della dimensione politica perché ritenevano che dentro la dimensione politica vi potesse essere in qualche modo una sorta di arresto del processo di tipo rivoluzionario del processo di emancipazione effettiva dei lavoratori cioè perché qui le condizioni di vita e di lavoro sono condizioni di vita e di lavoro drammatiche e su un punto vorrei come dire spendere una parola io capisco che forse queste mie riflessioni mi sembrano disorganiche ma come dire mi interessava piuttosto problematizzare che non narrare una storia chiusa su un punto vorrei come dire soffermare un attimo l'attenzione e cioè sul fatto che tutti questi gruppi queste prime forme di stampa di fogli di stampa periodica ovvero anche di volantini manifestini eccetera si sforzano però di compiere una una ricognizione ecco fate una una ricognizione delle condizioni materiali di esistenza questo è un punto significativo perché in qualche modo si avverte la esigenza di partire di qui se non si colgono se non si descrivono se non si conoscono gli elementi oggettivi della realtà se non si percepisce qual è qui la morfologia dei ceti e delle classi sociali se non si guarda in qualche modo a questa società a cui interno per dir così la grande contrapposizione tra ricchezza e miseria è abissale evidentemente non si riesce in qualche modo a trovare un meccanismo capace di avvicinarsi alle masse questo è per dir così il grande tema che diventa appunto di riferimento per tutto il movimento nel mezzogiorno poi è evidente poi c'è lo schienamento poi ci saranno come devo dire le contrapposizioni brucianti dopo la comune all'interno della prima internazionale da un lato le posizioni di Marx e di Engels dall'altro lato le posizioni di Bakunin e di una parte non non trascurabile del movimento operario internazionale allora esistente non c'è solo l'Italia dove le posizioni di Bakunin all'altezza del 1871 72 sono sostanzialmente ormai preminenti e prevalenti ma ci sono anche altri paesi la Svizzera romanda in particolare la Spagna per certi versi la Francia il Belgio per alcune per alcune parti persino persino il movimento operaio inglese non accetta per dir così in toto la visione di una organizzazione per un verso centralizzata per altro verso di una organizzazione che prima ancora di preoccuparsi dell'emancipazione economica delle classi lavoratrici ritiene di dover costruire il partito perché il partito diventa il prius rispetto ad ogni processo di organizzazione diciamo di organizzazione di tipo sociale di organizzazione dal basso quindi per dir così c'è una forte contrapposizione tra gli schieramenti una contrapposizione che è certamente una contrapposizione di tipo anche politico anche ideologico ma mi chiedo questa contrapposizione ci deve spingere a non considerare le posizioni di ciascuno dei contendenti cioè io storico che cosa devo fare siccome poi sostanzialmente la storia successiva del movimento operario negli anni 80 90 dell'800 hanno come dire di fatto avuto come punto di riferimento la costruzione del partito politico e quindi il modello dell'Aespede tedesca che devo fare devo completamente prepermettere le altre forme le altre visioni e considerarle come devo dire semplicemente il frutto di una arretratezza di una inadeguatezza di tipo ideologico per tornare ad usare il linguaggio il linguaggio di Engels devo considerare tutto questo semplicemente come il frutto da un lato della visione di colui che Marx definiva il Papa e cioè Bakunin e dall'altro lato di un movimento che è fatto di gente disgregata di intellettuali de classe spostati dalla propria classe che in qualche modo dell'internazionale come pure fu detto nel fuoco della polemica vogliono cercare un punto di riferimento anche di tipo economico cioè vogliono sistemarsi ecco questo è il nodo fondamentale io credo che e gli studi voglio dire di alcuni degli storici anche più recenti mi riferisco a Berti mi riferisco a Dada mi riferisco a Di Maria credo che gli studi di questi storici ovviamente primo fra tutti Piercarlo Massino ai quali come dire la storiografia italiana sull'anarchismo a quale la storiografia italiana sull'anarchismo deve moltissimo deve la gran parte delle acquisizioni di carattere storico con senso stretto non di carattere ideologico ma dicevo su questi temi io credo che il dibattito debba ancora essere aperto ma soprattutto io credo che vi sia ancora un grande terreno da dissodare perché per esempio su alcuni di questi personaggi facevo riferimento a Caporus certo su su Capiero c'è una letteratura storiografica consolidata ma su personaggi come Caporusso su personaggi come come lo stesso Fanelli su personaggi come Comelli su personaggi come Murgo che pure negli anni successivi avrà un ruolo nella organizzazione o nel tentativo di organizzazione e riorganizzazione dell'internazionale in Puglia dopo i fatti di Castel del Monte su questi personaggi c'è ancora da scavare ci sono grosse lacune di carattere storiografico e la Puglia come dire è seconda solo a Napoli per ciò che attiene al contributo di carattere organizzativo di carattere intellettuale di carattere politico che ha dato alla prima internazionale sino alla sua estenuazione sul finire del 1878 quando gli anarchici ritengono che ormai la partita è persa e bisogna emigrare come in gran parte fanno per dire credo che ci sia un grande spazio ancora per la ricerca storica un grande spazio che però è difficile è difficile tentare di colmare per la situazione degli archivi per le difficoltà materiali della ricerca per il fatto che alcuni di noi sono ormai vecchi e stanchi e non hanno trovato giovani disponibili come dire ad andarsi a sporcare le mani nelle carte d'archivio quando lavorai sugli internazionalisti pugliesi e poi su Covelli consentitemi da vecchio di fare questa piccola questa piccola rammemorazione io guardai i cinque i cinque fasci del processo di trani contro gli internazionalisti e il processo per i fatti di Castel del Monte e questi cinque fasci del processo erano conservati allora nella sezione di archivio di stato di Bari sezione di trani l'archivio di stato sezione di trani era un vecchio palazzo prospicente in mare dove facevo un freddo cane io andai inverno a guardarmi questi volumi facevo un freddo cane e non c'era riscaldamento e siccome non esistevano allora la possibilità di fare fotografie né fotocopie io prendevo appunti a mano e la mano era sostanzialmente antilosata del cielo non è uno scherzo voglio dire oggi le condizioni sono molto più agevoli tuttavia non riusciamo non si riesce a trovare giovani studiosi che si vogliano cimentare su queste tematiche forse per le ragioni che dicevo all'inizio forse perché queste tematiche hanno perso hanno perso vigore hanno perso come posso dire fascino fascinazione sulle nuove generazioni ma io credo che vi sia ancora molto spazio e quando parlerò di Covelli la prossima volta io vi mostrerò come addirittura noi avevamo punti di riferimento intellettuali avanzatissimi capaci cioè e generare all'altezza del 1870-71 di conoscere non soltanto le opere della economia politica classica ma di aver letto in lingua Marx in lingua tedesca Marx questo per dirvi come tutto sommato questo contributo che le Puglie hanno dato le Puglie perché allora erano le tre Puglie terra di Bari terra d'Otranto e Capitanale hanno dato alla costruzione di un movimento operaio e socialista nelle forme dell'anarchismo prima e in forme diverse successivamente tuttavia è un contributo fondamentale che non è stato come dire fino in fondo esplorato ma soprattutto che non è stato messo in valore da parte di una storiografia che sulla base di una malintesa ortodossia dico malintesa ortodossia marxiana o marxista ha rifiutato di studiare queste queste forme di pensiero e di organizzazione ritenendole sostanzialmente arretrate arretrata era questa storiografia e per larga parte consentitemi di dirlo anche fortemente ignorante grazie io ho visto domande da fare vi chiedo scusa per la disorganicità ma il tema era così ampio che io non sono riuscito a fare come devo dire a produrre un testo scritto che fosse in qualche modo leggibile nel tempo che in qualche misura è possibile richiedere all'attenzione di persone come noi normali come siamo tutti noi allora posso intervenire ok innanzitutto voglio fare i complimenti perché nonostante tutto invece è stato molto coinvolgente a me è piaciuto molto e soprattutto vorrei lanciare il fatto che non è vero che non ci sono giovani che si occupano della cosa noi per esempio come gruppo Pagonin di Roma ci stiamo occupando di diversi settori dell'anarchismo sociale effettivamente da un po' cioè dalla banda del Matese fino ai giorni nostri insomma quindi effettivamente la prima internazionale potrebbe essere una cosa da riprendere molto volentieri quindi lancio la cosa se vogliamo rimanere in contatto volentieri allora le due domande che volevo fare era uno riguardo appunto la banda del Matese nel senso se può essere considerata per come si è realizzata con la partecipazione da parte di Mazziniani Garibaldini eccetera non sull'anarchici che può essere considerata una prosecuzione degli ideali della prima internazionale per la sua composizione e non solo per gli effetti che ha avuto la seconda domanda è un po' più connessa nel senso mi è rimasto impresso la cosa che ha detto prima del fatto che è una vicenda chiusa invece la mia domanda è proprio perché io penso che non sia chiusa questa vicenda nel senso che secondo la circolare di Saint-Villiers del 12 novembre 1871 e poi il comunicato insomma della federazione italiana dell'agosto del 72 e soprattutto considerando che per esempio la sezione della federazione anarchica italiana di Iesi ancora si rifà alla prima internazionale come ancora esiste il gruppo anarchico Rocca dei Righi che è il più antico gruppo politico insomma della storia d'Italia si può considerare invece la prima internazionale antiautoritaria e quindi tutto quello che è venuto dopo come diciamo la prosecuzione naturale della prima internazionale che e possa i suoi ideali mantenersi ancora in questa esperienza e comunque in certi principi che poi sono il fondamento no? Dell'internazionale di Santimie come preferisci Mario sentiamo qualcun altro o non ho preferenze personali come tu ritieni sia meglio disciplinare il dibattito se c'è qualcun altro noi che facciamo altrimenti puoi rispondere Mario non c'è prima intanto lascio anche qualcuno o qualcun altro a pensare io racconto un aneddoto 75 1975 1976 il professor Mario Spagnoletti allora lo chiamavo prof il professor Mario Spagnoletti andava all'università di Bari tiene una conferenza di fronte nei locali di una parrocchia a San Pasquale di fronte alla chiesa praticamente c'era un locale su Marx e Bacchunin viene in sede un compagno delle scuole medie perché erano studenti medie a cui era rivolto alla cosa Toto Toto devi venire devi venire devi parlare poi che dopo che ho ascoltato Mario Spagnoletti non ho avuto nulla da dire onestamente né allora né adesso quindi lo trovo sempre degli ottimi spunti nelle sue relazioni è anche molto condivisibile qualcun altro che ha riflettuto? Mario allora io direi comincio a a dire il mio pensiero sulle due questioni che ci ha posto Mahno e poi se c'è chi interviene allora no volevo fare intanto una piccola precisazione cioè quando ho detto non ci sono giovani che hanno voluto riprendere questi temi mi riferivo alla Puglia cioè era come devo dire limitata geograficamente la mia affermazione in Puglia io non credo Toto forse ha più elementi diciamo conoscitivi di me non credo che vi siano stati ultimamente studi specifici sulla Puglia in questa direzione fatta questa premessa certamente sì la banda la banda del Matese si richiama in maniera come devo dire puntuale alla all'internazionalismo anti-autoritario alla prima internazionale in Italia da un lato si richiama da un punto di vista politico ideologico basterebbe in qualche modo prendere in mano quelli che sono i resoconti che sulla stampa vi furono della banda di Letino e di Gallo le stesse le stesse parole di Malatesta al congresso quello che si dirà in un giornale che sarà fondato subito dopo l'impresa del Matese a Napoli da Emilio Covelli e cioè l'anarchia di cui esistono i dieci numeri reperiti e reperibili presso l'archivio della fondazione Feltrinelli per rendersi immediatamente conto come quella impresa è sostanzialmente la ripresa della fermida vigilia di insurrezione del 1874 quando con il bollettino della Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori il primo il secondo il terzo bollettino si chiamò alla rivoluzione sociale alla insurrezione sociale quindi certamente sì da un punto di vista politico ideologico ma come credo bene abbia fatto a sottolineare da un punto di vista anche della composizione dei partecipanti alla alla scorribanda virgolette scorribanda così la definivano i giornali borghesi del tempo sul 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 Matese d'altro canto durante il processo in cui furono poi assorti i responsabili della banda del Matese e al processo si fece di quella tribuna processuale un punto in cui si dette conto di quella che era stata la azione e la intenzione cioè si fece la propaganda del fatto e si trasferì la propaganda del fatto in propaganda all'interno dell'aula di giustizia e devo dire che la giuria popolari poiché questi reati erano di cognizione delle giurie popolari sostanzialmente assolse gli imputati per la banda del Matese addirittura come egli che pure fu incarcerato per tre mesi non andò nemmeno al processo perché la magistratura di Santa Maria Capo Ametere in camera di consiglio lo sostanzialmente derubricò tutte le accuse a suo carico e lo vanno libero quindi non c'è dubbio che la banda del Matese sia effettivamente all'interno della visione strategica politica ideologica dell'internazionale autoritaria che nasce a Rimini e che come dire diventa il fulcro dell'internazionalismo in Italia la seconda la seconda questione io non non ritengo che la questione sia chiusa all'inizio ho semplicemente il posto di rinievo come negli ultimi diciamo decenni la storiografia e in generale l'opinione pubblica intesa nella sua dimensione più ampia e più vasta non abbiano più come devo dire dedicato attenzione ai temi dell'internazionalismo in generale e della prima internazionale in particolare ma se proprio devo dire fino in fondo la mia personale opinione io ritengo che quelle tematiche ovviamente con tutti i necessari come devo dire aggiustamenti che un'analisi concreta della situazione concreta impongono quei valori ecco siano valori pregnanti e che possono e debbano costituire un punto di riferimento anche per l'oggi detto in termini più consentitemi di essere banale e vocalizzatore la questione della emancipazione economica delle classi lavoratrici non è risolta non l'ha certamente risolta nella mondializzazione e nella globalizzazione anzi essa si pone forse oggi in maniera altrettanto drammatica basterebbe vedere che cosa succede a livello italiano ma non solo italiano alle giovani generazioni le quali vivono una dimensione di assoluta precarietà esposti per dir così a tutte le forme di ricatto quindi non c'è stata questa emancipazione anzi anzi c'è stato esattamente il contrario c'è stata la società dell'1 barra 99 ricordiamoci le analisi non di un pericoloso rivoluzionario attentatore ma di un premio Nobel come Stiglitz Stiglitz mette in evidenza che questa è la società in cui l'1% della popolazione detiene una ricchezza che è sostanzialmente pari a quella del 99% della popolazione quindi i temi come posso dire i temi forti le idee forti le idee guida della prima internazionale quelle idee per cui soffrirono patimenti carcere difficoltà di ogni tipo e alcuni finirono come ben sapete persino in case di correzione manicomiale quelle idee quei valori sono come devo dire dei valori che dovrebbero ancora costituire il punto di riferimento di ogni visione che si rifà alle tradizioni del movimento socialista e operaio che si rifaccia ad una visione di sinistra della società che oggi come devo dire non trova non trova nella stragrande maggioranza dei riferimenti di tipo di tipo politico e di tipo organizzativo e quindi su questi temi bisognerebbe invece non solo come dire continuare e insistere ma soprattutto farli diventare temi di riflessione poi anche come dire di presa di coscienza e di organizzazione se possibile quindi io sono del tutto convinto che alcune delle tematiche proprie della prima internazionale e dell'internazionalismo proletario in generale vadano oggi riprese e vadano riprese nelle forme e nei modi ovviamente aggiornati che la situazione impone sarebbe sarebbe come dire impensabile non aggiornare alcuni di quegli elementi ma i temi di fondo emancipazione la libertà la libera federazione dal basso tutti questi elementi possono a mio modo di vedere e debbono a mio modo di vedere costituire una sorta di registro per l'azione di propaganda di acculturazione che noi dobbiamo svolgere all'interno della società non so se la risposta è sufficiente Macno grazie grazie Mario c'era administrator che voleva fare una domanda e poi Luciano Nicolini ecco ecco puoi parlare puoi parlare non ti sentiamo però c'è il microfono acceso ma non ti sentiamo riprova no non ti sentiamo ma bene se ok nel frattempo che tu sistemi Luciano Nicolini volevo dire qualcosa sì mi sentite sì bene allora molto brevemente il professor Spagnoletti ha accennato all'inizio della sua conferenza diciamo il dibattito tra chi dice è stato l'arrivo di Baconi da Napoli a diciamo radicalizzare i repubblicani napoletani e chi dice invece no sono stati i repubblicani napoletani a radicalizzare Baconi ecco lui dice ho capito che l'idea che sia valida la prima delle due ipotesi cioè che sia stato Baconi a radicalizzare i repubblicani napoletani ecco io non ho mai studiato approfonditamente quel periodo quindi non mi esprimo però ho letto devo dire forse più collocchio del militante che dello storico il famoso libro di Carlo Pisacane la rivoluzione e sostanzialmente quello illustrato da Carlo Pisacane è quello che poi non molto tempo dopo sarà il programma anarchico di Malatesta ci sono delle cose assolutamente identiche ecco allora mi chiedo nella sua visione il professor Spagnetti come inserisce lo scritto di Pisacane che era sicuramente ben conosciuto dai repubblicani napoletani no non vi è alcun dubbio che anche diciamo la non solo l'azione ma la riflessione tra virgolette teorica di Pisacane sia nel suo scritto sia nel testamento abbiano come devo dire certamente un posto significativo e di rilievo all'interno del processo di formazione delle diciamo dei repubblicani dei repubblicani italiani e dei repubblicani meridionali in particolare e questo però questo riconoscimento è un riconoscimento doveroso ma questo non significa che come dire vi sia una sostituzione del pensiero baconiniano a alcuni elementi della tradizione precedente del repubblicanesimo avanzato quasi socialista preesistente nel mezzogiorno le due cose funzionano in sé ovviamente però Pisacane non c'è più e come dire il ricordo della sua impresa è vivissimo certamente nelle formazioni della democrazia militante del mezzogiorno e napoletana in particolare è vivissimo ma da solo non basta tanto è vero che prima del 1867 68 non si determina nella democrazia radicale repubblicana italiana quel processo di dislocazione in questo senso le due cose come dire funzionano insieme ma non è dubbio però che la presenza di Bakun per il fatto che era lì per il fatto che aveva una visione come devo dire internazionalmente più ampia per le caratteristiche della sua personalità abbiano avuto per dir così un maggiore impatto sulla ridislocazione della democrazia militante italiana questo è diciamo il mio punto di vista ma non è solo il mio punto di vista cioè nel senso che la storiografia più avvertita ha ritenuto di dover mettere in rilievo questo aspetto cioè che in effetti la presenza di Bakun costituisce un detonatore ulteriore all'interno della situazione della democrazia italiana e partenopea in particolare questo come dire questo risulterebbe dagli studi dagli studi di Cerrito dagli studi di di Scirocco dagli studi di dello stesso dello stesso rally cioè in qualche modo questi elementi sono stati fortemente ma non solo loro Arthur Fleming Pier Carlo Masini cioè una parte diciamo significativa della storiografia sull'anarchismo italiano delle origini o se preferite sulla prima internazionale in Italia e nel mezzogiorno ha messo in evidenza questo aspetto poi come dire poi diventa difficile abbiamo detto fra di noi prendere il bilancino e vedere qual è per dir così la il la percentuale di influenza al mio modo di vedere insomma l'influenza di bagugli è determinante poi ovviamente possiamo sempre discuterne come dire dopo dopo la liberazione del mezzogiorno non mi pare che diciamo il ricordo di pisacane pesi molto nel dibattito all'interno della democrazia napoletana e meridionale ecco cioè c'è il ricordo c'è come devo dirgli inchinarsi alla memoria eccetera c'è il riconoscimento del sacrificio sì ma non si passa da questo però a una nuova forma o una nuova idea di organizzazione questo questo mi pare come dire mi pare abbastanza abbastanza evidente nella storia di Napoli e delle province napoletane dopo l'unità ecco questo questo posso dire insomma bene c'è Ademistetoro riesce a parlare adesso ma non ti sentiamo ok alla prossima Gian Piero Landi voleva intervenire sì grazie vorrei riprendere proprio il discorso introdotto da Luciano che ha anticipato delle cose che anch'io mi sentivo di dire prima però vorrei fare i miei complimenti al professor Spagnoletti perché la conferenza mi è sembrata veramente molto interessante e non disorganica come lui temeva però per quanto riguarda proprio in specifico la questione dell'apporto da un lato di Bakunin e dall'altro della tradizione che si può far risalire sostanzialmente al socialismo democratico risorgimentale e in particolare proprio a Pisacane io vorrei ricordare che questa tradizione era ben presente agli stessi internazionalisti o perlomeno a qualcuno di loro anche di peso nel 1879 escono due opuscoli di Francesco Saverio Merlino uno dedicato a Vincenzo Russo e l'altro a Pisacane a Carlo Pisacane Vincenzo Russo è un'altra figura che andrebbe recuperata che può in qualche modo rafforzare il concetto che già autonomamente nel Meridione e specificamente direi a Napoli c'erano delle tendenze socialiste e democratiche abbastanza avanzate anche prima dell'arrivo di Bakunin questo a mio viso senza naturalmente togliere alcun valore alla importanza del ruolo di Bakunin nella creazione poi dell'internazionale in Italia penso anch'io come il professor Spagnoletti che ci sia stato un po' un'azione di rafforzamento però probabilmente non si è trattato solo di di una relazione unidirezionale Bakunin ha portato del suo ma anche ricevuto dall'ambiente più avanzato del socialismo e della democrazia radicale meridionale mi fermo qui grazie Gian Piero devo ringraziare Gian Piero Lando per aver ricordato questi due opuscoli che sono due opuscoli pubblicati dalla collana opuscoli di propaganda socialista della plente di loti sia quello su Vincenzo Russo sia quello su Pisacane sono dei volumetti di questa dimensione non più grandi di così lo ringrazio perché in realtà molti anni fa io pubblicai con la caita ristampai con la caita tutti i 32 opuscoli di propaganda socialista della plente di lotti tra cui c'erano questi io e quindi lo ringrazio perché io me ne ho persino dimenticato di aver pubblicato questo questo volume mentre parlava però me ne sono ricordato e ho visto proprio come posso dire ho visto visivamente ho ricordato come sono fatti quegli opuscoli che erano piccolissimi 32 adesso ora andiamo invece alla sostanza del problema non vi è dubbio che all'interno della cultura della diciamo della cultura più avanzata della cultura democratica della cultura della democrazia risorgimentale queste due figure per un verso il ricordo della grande della grande rivoluzione del 99 e della sua tradizione repubblicana dall'altro lato la presenza di pisacane abbiano avuto un ruolo determinante come dire basterebbe ricordare tutte quelle che sono state all'interno della cultura napoletana le le correnti ideali di dibattito eccetera anche prima della carità dei borboni e della costruzione dello Stato d'Italia non vi è dubbio non vi è dubbio e vi sia una interazione tra questa tradizione e la presenza di macuni d'altra parte per quanto riguarda ad esempio la presenza di macuni a Firenze è in anni lontani uno storico credo conti ha messo anche in evidenza come vi siano state delle forti interazioni tra una tradizione di carattere massonico presente a Firenze e il pensiero di Bacu e come questi due come posso dire questi due elementi abbiano reciprocamente interagito sono altrettanto convinto che nel caso di Napoli questa preesistente tradizione che è una tradizione appunto pisacaniana mazziniana garibaldiniana eccetera abbia costituito una sorta di controaltare dialettico per il processo di ulteriore come devo dire formazione e specificazione della delle posizioni di Bacu in realtà la ragione per cui accertuavo quell'aspetto è perché sostanzialmente e qui forse non sono stato sufficientemente come dire chiaro e puntuale e perché sostanzialmente una certa storiografia nell'accentuare la parte sostanzialmente preesistente di una tradizione a differenza di quanto ha fatto Lanti adesso dicendo che c'è stata comunque una interazione voleva utilizzare questa tradizione per annulare oscurare in maniera totale l'apporto macumignano e quindi la mia polemica se polemica si può definire comunque la mia posizione piuttosto netta e decisa in quella direzione era come risposta a questo tentativo di come dire non di minimizzazione ma addirittura di obnubilazione dell'apporto macumignano viceversa riarticolato in questo modo è evidente che tra le due dimensioni c'è un rapporto di interazione e che sostanzialmente macumign certamente avrà fatto i conti con la tradizione ideale e culturale napoletana che non è solo questa eccetera ma è anche la tradizione per esempio degli studi di carattere economico che pure a Napoli avevano avuto una loro forte presenza e pregnanza non dimentichiamoci che a Napoli all'università di Napoli prima in Italia fu inaugurata una cattedra di economia pubblica che fu tenuta dal genovesi quando in altre regioni anche avanzatissime questa disciplina che era una disciplina fondamentale proprio per la sua valenza economia pubblica significava sostanzialmente una economia che riguardava il rapporto tra i poteri dello Stato e l'economia altrove non se ne discuteva quindi nessun disconoscimento della tradizione sicura interazione tra tradizione e innovazione bacuniniana altresì però nessun disconoscimento come una certa storiografia ha voluto in passato fare nessun disconoscimento del ruolo comunque di bacuni soprattutto nella come devo dire nella messa a punto non tanto e non soltanto delle forme ideali e culturali ma anche della necessità di una rottura e di nuove forme organizzative del movimento del movimento operaio e socialista credo che così sia corretta la come dire la rotta da seguire nella interpretazione di questo nesso tra tradizione e innovazione bacuniniana non so se è sufficiente certo grazie mi sentite se parlo adesso perfetto sì mi sentite ah perfetto scusatemi per prima che è la prima volta che uso questo software quindi non sapevo come impostarlo niente innanzitutto buonasera io vorrei fare una domanda se possibile al professor non lo so signor Mario Spagnoletti riguardo al fatto che secondo lui specialmente in Puglia e per inciso io devo dire che è anche la mia impressione non c'è questa tendenza alla ricerca storiografica da parte delle nuove generazioni riguardo queste tematiche io volevo chiedergli se è d'accordo con me o è soltanto la mia impressione che non valga questo discorso invece se lo riferiamo alla all'opposta fazione politica cioè ai movimenti di destra quindi ai neofascisti i neo insomma a quelli che fanno riferimento alla all'estrema destra a me sembra che in Puglia in realtà non lo so tanto ma nel paese comunque in generale in Italia mi sembra che invece in questo senso la tendenza ci sia è la mia impressione oppure è d'accordo con me questa era semplicemente la domanda grazie Mario a te per la chiusura a questo punto se non c'è qualcun altro che vuole parlare io mi riferivo ovviamente alla ricerca storica quando ho detto non c'è questa attenzione eccetera verso questi temi mi riferivo a giovani che si dedicano alla ricerca storica ma ovviamente però esiste anche un rapporto tra questa diciamo mancata propensione a studiare questi temi questi perché altri temi viceversa anche i giovani studiano quelli che sono i temi diciamo poi i risultati prevalenti dal secondo dopoguerra in poi e cioè le grandi correnti storiografiche che facevano riferimento al partito comunista al partito socialista e quindi storia del PC e affini storia del sindacato e affini storia del partito socialista e affini storia della democrazia cristiana dei cattolici più in generale e affini se invece la domanda se ho capito se ho capito bene la domanda invece la domanda è spostata per dir così su una su un versante non di ricerca storiografica ma su un versante politico cioè se oggi le giovani generazioni abbiano o non abbiano un rapporto con tematiche che riguardano la destra gli atteggiamenti pensiero virgolette pensiero della destra e questa la domanda molto sinteticamente sì mi sembra per dirla in maniera volgare diciamo mi sembra che quella dell'estrema sinistra dell'esperienza del socialismo comunista sia considerata almeno dal punto di vista dei giovani e dico un'esperienza chiusa ma lo stesso discorso invece sembra non valere sempre rispetto dal punto di vista dei giovani per quanto riguarda l'estrema destra ecco questo per dei line allora abbiamo capito bene la risposta è come dire abbastanza rapida per non tediare ulteriormente i nostri i nostri ascoltatori sì e questa è una sconfitta e questa è una sconfitta dei movimenti di sinistra in generale tutti insieme tutti considerati cioè non essere come devo dire più riusciti a trasmettere un testimone e aver fatto in modo che si gettasse il bambino con l'acqua sporca laddove invece dall'altro lato c'è una forte accentuazione diciamo del carattere ancora attuale di un certo pensiero di destra questo è questo è vero insomma non sono in grado di avere come dire una raffigurazione in percentuali ma non c'è dubbio che una parte dei giovani o credono alla favola del capitalismo capace di risolvere tutti i problemi attraverso la vecchia mano invisibile di Adamo Smith e cioè le capacità autoregolatrici del mercato o dall'altro lato addirittura con una sorta di preferenza per esperienze di carattere addirittura autoritario e questa è una sconfitta è una sconfitta della scuola è una sconfitta dell'università è una sconfitta degli intellettuali ed è una sconfitta dei movimenti politici tutti insieme considerati io spero che questa non sia una sconfitta definitiva e cioè che viceversa ci siano ancora gli spazi le possibilità per riprendere il filo di un ragionamento il filo di una tradizione però allo stato attuale io credo che tutto sommato tu non abbia tolto i giovani credo che si dividano largamente tra chi come dire si accontenta dello statu quo e quindi in qualche modo cerca di vivere e sopravvivere all'interno delle pieghe di questo sistema e chi viceversa addirittura come dire indulge verso forme nostalgiche di tipo autoritario più come devo dire assai meno forte mi pare in questo momento un movimento giovanile che guardi alle forze di sinistra cosa che invece non era stata per tutto il periodo del secondo dopoguerra almeno fino all'altezza della fine degli anni 80 primi anni 90 e lì è avvenuto qualcosa e lì si sono in qualche modo interrotte certe traiettorie e lì si è come dire celebrata una sorta di visione da addio alle armi e questi poi sono i risultati di aver detto addio alle armi quando invece le armi andavano ancora tenute benoliati le armi o intendiamoci in senso figurato non vorrei essere frainteso ma le armi andavano tenute ben lubrificate e usate all'occorrenza ovviamente in questo ridimento marxiano e cioè le armi della critica non la critica delle armi per non essere come dire equivocato cioè non bisognava dire che era tutto chiuso era tutto finito che ormai non c'erano più prospettive di avanzamento e che anzi e che anzi tutto era risolto perché ormai non c'era più la classe operaria non c'era più il conflitto di classe non c'era più come devo dire nessuna nessuna spinta a una organizzazione dal basso molte forze politiche questo hanno detto soprattutto di sinistra il risultato è come dire un arretramento complessivo secondo me come dire tu non hai torno ma questa è una valutazione non da storico è questa è una valutazione da uomo della strada insomma ecco è anche una contraddizione crede che sia una contraddizione anche perché meglio è un paradosso perché le contraddizioni del sistema economico capitalista non sono mai state così lampanti come in questo in questo decennio e quindi è paradossale in certi versi che sia così evidente insomma l'insostenibilità di questo sistema e ciò non di meno le giovani generazioni sembrano non essere capaci di metterlo in discussione quale è un paradosso dal mio punto di vista lei non crede? le contraddizioni ci sono e non solo ci sono ma sono addirittura secondo me anche aumentate facevo riferimento a quell'esempio di Stiglitz sul rapporto 1-90 9 il problema è però che queste contraddizioni vanno da un lato rilevate dall'altro lato evidenziate e dall'altro lato ancora bisogna bisognerebbe offrire o poter offrire una piattaforma di lotta contro queste contraddizioni e laddove queste cose vengono meno cioè non vengono rilevate non vengono prospettate e non si offre una piattaforma di lotta evidentemente come dire queste contraddizioni ci sono ma non diventano il punto d'avvio di un processo di ricostruzione di un movimento che lotti contro queste contraddizioni e oggi noi parliamo di tutto parliamo parliamo dell'elezione del Presidente della Repubblica chi sarà chi non sarà Mattarella non Mattarella Mattarella Bis Draghi non Draghi eccetera e così via però come dire parliamo del Covid la pandemia che è una cosa terribile non parliamo però di quello che è dal punto di vista diciamo del suo strato economico che cosa costa oggi quali sono i problemi che si devono affrontare qual è la realtà soprattutto la realtà giovanile tutto questo non mi pare sia all'ordine del giorno del dibattito né dei giornali né come dire degli altri mezzi di comunicazione men che meno delle forze politiche organizzate che esistono non mi pare che ci sia un dibattito forte intorno a questi temi ogni tanto ci si ricorda ah poveri quelli che portano la spesa a casa o portano la pizza a casa si ho capito ma tutto questo al di fuori di una analisi della situazione reale quindi in maniera assolutamente frammentaria no priva cioè proprio di una capacità di costruire piattaforme e soprattutto di ipotizzare un'alternativa non c'è non c'è nessuna forza politica c'è poi il populismo e vabbè il populismo di destra che cavalca ma cavalca ovviamente in maniera assolutamente per un verso becera per un altro superficiale ma anche lì non c'è un'analisi manca un'analisi ma queste sono valutazioni soggettive personali su cui non come dire non ho nessuna competenza specifica ecco grazie ringrazio Mario mi do appuntamento con Mario Spagnoletti il 18 febbraio prossimo incontro su Emilio Covelli dal titolo Emilio Covelli tra Max e Bacconin che è un titolo che il professor Spagnoletti ha fatto negli anni 80 primi anni 80 credo ha fatto quindi uno studio che risale a quell'epoca e mentre come venerdì libertario venerdì prossimo abbiamo un incontro sulla Russia con Yuri Colombo che ritorna di attualità questa problematica in vista anche di quello che sta succedendo in Kazakistan in Ucraina venti di guerra in Europa quindi c'è da lavorarci un po' grazie a tutti per l'attenzione e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti